Allora ragazzi, innanzitutto grazie per essere venuti a questo incontro, a questo evento. Sappiamo che da qualche giorno state a Roma, insomma volevo sapere un po' come era andata questa vostra permanenza nella Capitale e so che avete fatto anche altre due partite prima di questa. Sì, ci siamo divertiti troppo. È un piacere giocare contro università come lui, Storvergata, poi Cattolica ieri. Senti, nello specifico volevo chiedervi come vivete nel vostro paese lo sport, quindi rapportato all'università, ecco. So, in Oxford there are about 40 colleges and each individual college has its own football, so we sort of have an inter-university sports league that anyone can play, so that's for all abilities, for men, for women, so that's really, really fun. And then, at a high level we have four university teams, so we're the second team, we have, obviously, a first and third team that also play against other universities, and a fourth development squad that looks to build up players for the future. So it's a really good university to go to for getting engaged. Quindi Oxford come università è compresa di 40 colleges, e ogni college c'è una squadra, anche due, che giocano in una competizione o un torneo contro gli altri college. E poi i giocatori più bravi giocano per l'università, che c'è abbiamo quattro squadre. Le prime tre squadre, noi siamo la seconda, le prime tre squadre giocano in una divisione, una classifica nazionale contro tutte le altre università del centro. And it's a brilliant thing to get involved with, because you get access to opportunities like coming to Rome, I mean, I've been to China and Amsterdam before, something that I just wouldn't be able to do otherwise. And, obviously, there's a lot of work to do for university, and it gives all of my boys a good break, sort of, 15 hours a week, where all we focus on is football, where all we focus on is playing better and winning, and that's just a great release from the rest of our lives. And finally, I just want to say a massive thank you to Tor Vergata for being a brilliant host, for being so welcoming on the emails, and we've had a brilliant game today, and we really look forward to trying to build a long-term relationship. It's been a fantastic tour, so thank you.